Che fai? Scusa. Lo so preso. Senti, io ve lo dico. Come te stai? Che già fuggiri un bosco. Qualcamato fuggiri tutti i bosco e commetto che tu da fungale lì, tra i piedi lì e poi tu tra i alti. Che si è? Tu fanno generare i funghi. I funghi fanno... Nel bosco fanno un pa' di fuggiri. Quindi è differente. E' di dove non si può trovare da tutte le parti il fuggiri. Capito? Qua c'è la tonina, se vi interessa ma sono un po' il tuo padre. A me ne faccio. Con uno, con quelli lì, c'ho mangiato una volta e più. E' un portatroni tanti di fuggiri. Capito? Eh lo so ma c'è quelli fungai che vanno di notte con le file a cercargli. Senti, anche lì i funghi fanno ora. Però ne fanno uno qui, uno là, uno là. Tu ne fanno i radii come alzali ragazzi. Io ve lo dico. Ma ti puoi camminare. Bisogna camminare. Eh sì. Se no... Se no tu ne fanno più come sempre le fungai. No! Scusa! Se passano le gente! E poi l'asparo è il nostro! Se l'hanno lasciare uno perché non l'hanno visto! Sì sì. Perché non l'hanno visto. Eh capisci? Se non l'hanno visto l'hanno lasciato. Allora gira gira su quei fogli gira gira. Uno qui, uno là. Scusa! E da ultimo qualcosa tu trovi! Eh! Ma se no! Io gli voglio! Eh sì! Ci do girà! Parti presto! Ma! Sì! Sì! Via! Sì! Sa che si fa? Si li metti? Guardi giù! Buoni gallinelli! Gialletti! Buoni gallinelli! Gialletti! Sì! Dovemmo affatto! Cos'è che questo va? Sì! Sì!